Alle origini del Gasp, il mio è nato vedendo le giovanili dell'Ajax. Dai principi di gioco alla valorizzazione del vivaio. Gian Piero Gasperini si è raccontato a tutto tondo ai microfoni di Dazn. Nel programma Daznerois, partendo proprio dalla sua idea di calcio, quella con cui ha fatto le fortune dell'Atalanta. Col Pescara di Galeone eravamo l'unica squadra a giocare a zona ha raccontato l'allenatore della Dea. Da lì in poi mi si è aperto un mondo. Andare ad attaccare l'avversario, non aspettare che perdessero pala loro ma provare a conquistarla direttamente noi. Il mio sistema nasce vedendo le giovanili dell'Ajax. La difesa a tre? Era una novità in Italia ed è stata la causa della mia bocciatura totale all'Inter. Dove speravo di dare nuova carica a tanti giocatori in fase calante. Artefice della scalata dell'Atalanta, tre partecipazioni in Champions League. Gasperini ha ricordato che la prima volta che parlai col presidente per Cassini disse che il suo sogno era quello di veder giocare i giovani del vivaio. Io guardai la rosa e pensai che bastava soltanto togliere un po' di polvere per trovare le pepite. Era una squadra inizialmente tutta italiana, di giovanissimi che sono esplosi subito. Analizzando le sette stagioni all'Atalanta, Gasperini ha raccontato che con i lici che il Papu era come mettere la pala in banca. Adesso abbiamo i Lundeluk ma anche ci stanno dando una bella spinta. Gasperini ha poi concluso dicendo che in Italia la qualità è sicuramente scesa perché si è fatto il gravissimo errore di non aver coltivato il nostro prodotto. Abbiamo bisogno di idee di rilanciare i giovani calciatori italiani, purtroppo rimpiazzati da tanti stranieri mediocri. Bergamo è un territorio florido. E Scaldini è già un leader a 19 anni.